partita partita la finale la mila metri di senore stampa americana vediamo l'atlete di lanciarsi col primo giro di questa gara l'importante è che sia così si, si, si e d'acqua c'è primo cambio a condurre la formazione nel black nei colori nero verde e bianco con corretto colori bianco nero fuori sportiva del busco in line vediamo puntini cambi in questo momento la testa gara per questa ultima gara della mattina delle competizioni delle categorie junior senior e ma a condurre con me a condurre la mattina eccoci il 2011 nuovo cambio delle squadre in questo momento c'è una battaglia per la conquista di 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 un passato che sono in questo momento le due squadre di casa di 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 in un di in un nuovo cambio che si prosegue il prossimo passaggio sempre almeno 6 giri la scelta la borsa sempre 4 quadri di testa che viene staccata la bianca è mai in testa di tutti i vetri stai attaccata stai attaccata stai attaccata il primo il prossimo passaggio esercitiamo segui vediamo vai sana vai sana vai su vai vai 3 3 si entra nel vino dei punti di giro sempre più attivi di gara le ragazze si alziano con la conquista del posto Buongiorno, buongiorno, il premio del 2002 che sarà il prossimo primo settembre contro zero, sempre avanti in questo momento, la prima volta in casa, 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 il primo quarto 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 Grazie a tutti.